Ciao ragazzi e benvenuti su GasTube Drums e nel video di oggi sono in compagnia di strumentimusicali.net che mi ha passato, che mi ha passato, che mi ha mandato questo pacco sottile ma abbastanza grande in cui voglio farvi vedere una cosa molto 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 interessante adesso che stiamo andando verso l'estate adesso che stiamo andando verso i live, adesso che sta ripartendo tutto quanto, stiamo suonando in giro eccetera 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 può essere una cosa importante per i live estivi, importante per i live invernali ma importante anche per rimanere a casa con tutto a posto senza avere sempre quei problemi che dici cavoli adesso ho rotto un pezzo non so come fare ho fatto una cosa non so come fare e allora sono arrivato qui a farvi questo video perché ho tirato il taglierino scusate che sono preso bene perché nella mia esperienza live ho avuto molti problemi ogni tanto mi mancava una cosa, ogni tanto si rompeva una pelle, ogni tanto succedeva questo, quest'altro, quest'altro e quindi a un certo punto ho dovuto trovare un sistema per non rischiare di avere più nessun problema perché se ti si rompe una pelle, se ti si rompe il pedale, cosa fai? Niente e non è che puoi dire fermi tutti, mi si è rotto questo pezzo quindi ciao, non possiamo più fare il live, non possiamo più fare niente non posso più studiare anche a casa e magari dover aspettare una settimana che mi arrivi quel pezzo quindi ho deciso di prendere da strumenti musicali un bel po' di cosette, questa dopo, questa adesso ma non ho fatto partire la sigla, quindi sigla facciamo così, mettiamo tutto dentro vado di là alla batteria e vi faccio vedere tutto, mando la sigla e intanto io mi sposto vi stavo dicendo che a parte questo che ho già tolto di là, avevo preso questo in mano questo che cos'è? Praticamente questa è una borsa da bacchette, teoricamente, della Minol molto bella in pelle, ho cercato una borsa bella grande ma che non costasse tanto perché poi c'è un po' quella cosa di dire le borse da bacchette che costano tanto cioè cosa me ne faccio, nel senso magari spendo 200 euro per una borsa, poi manco la suono la borsa e quindi cosa me ne faccio? Questa mi piace molto perché non viene così tanto, è molto grande guardate qua, ha un sacco di tasche, una, due, tre, quattro, cinque, più tutte le tasche interne e posso metterci un botto di cose qua dentro, è abbastanza grandina ma mi serve una borsa piatti perché una borsa piatti? Una borsa bacchette, un portatutto abbastanza grande perché per prima cosa ovviamente all'interno gli posso andare a mettere tante bacchette, guardate ho preso tutte le bacchette che avevo qua e se io vado a metterle all'interno guardate che bomba, cioè ho utilizzato praticamente solo una piccola parte, anzi neanche metà della mia borsa dovete avere un po' di bacchette, non portatevene due perché altrimenti potrebbe essere un problema e oltre questo voglio farvi vedere tutto cosa metto io all'interno della mia borsa quindi ho preso un bel po' di cosette, a parte questa che ve la faccio vedere dopo due cose vi faccio vedere a fine video perché sono proprio un po' delle chicche molto molto interessanti soprattutto l'ultima e allora partiamo di qua ah ecco, questo Zildian qua è praticamente il The Drummer's Survival Kit in pratica questo è proprio il kit della sopravvivenza che è importante avere perché all'interno avete tutto quello che vi può servire nel caso si rompesse qualcosa avete questa che non so se la vedete o non la vedete ma comunque è la cordicella che serve per la cordiera mettete caso che la vostra cordiera si rompe si rompono le cordine, non le corde proprio della cordiera ma quelle che le tengono attaccate alla pelle qui ce l'avete subito da cambiare non dovete annullare il live perché il vostro rullante non suona più qui avete delle viti, le viti importantissime mettete caso che vi si rompe una vite di un timpano della cassa eccetera oppure vi cade e non la trovate più durante il live prendete qua e la rimettete subito qui avevo messo delle sordine per il mio rullante che però da video non sono tanto belle da vedere quindi io quasi quasi le toglierò poi avete dei gommini, gommini di qualsiasi tipo da quello del charleston a quelli dei piatti eccetera avete chiavette e brugole guardate qua, chiavetta da batteria con brugola incorporata e poi avete questi qua che sono quelli da mettere sopra le aste piatto cioè avete veramente tutto quanto anche le farfalle qua che sono queste qua quindi in questo sacchettino in pratica la cosa bella è che è un sacchetto molto piccolo in cui avete tutto tutto quanto ovviamente tutto quello che vi sto dicendo tutto quello di cui vi parlo lo trovate in descrizione io questo lo prendo metto tutto dentro così che secondo me è la cosa più importante metto tutto dentro e poi chiudo e vado a metterlo nella mia prima taschina della mia borsa tac perfetto a posto survival kit per qualsiasi evenienza ce l'ho poi allora andiamo avanti sempre un po' questo è un po' survival kit tutto il video qui ho comprato un clutch da charleston il clutch da charleston è questo quello che tiene il charleston può capitare che vi si rompa può capitare che non lo troviate possono capitare tantissime cose quindi io uno di scorta vi consiglio sempre 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 di averlo perché non si sa mai il consiglio che vi do però è quello di comprarvi un clutch come questo adesso vi faccio vedere com'è questo clutch qua in pratica è un clutch universale quindi che va bene per tutte quante le aste non tutte le aste sembrano tutte uguali questi affari qui ma in realtà non sono proprio tutti tutti uguali quindi questo qui che vi lascio in descrizione è un clutch universale che funziona con tutte quante le aste quindi anche questo fate così lo prendete e magari il clutch non è una cosa che vi serve proprio al volo quindi potete anche andare a metterlo in una taschina un pochettino più nascosta che potrebbe essere ad esempio quella interna della mia borsa piatto perché la mia borsa piatto ha una tasca qui ha una tasca qui in mezzo e una tasca ancora qui quindi ha tre tasche in tutto io vado ad aprire vado ad aprire l'altra però vado a buttarglielo dentro e la cosa molto interessante è che vedo tutto quello che c'è all'interno perché il problema delle borse tante volte è che qui è tutto nero io apro la zip e poi devo cominciare a far così senza capire che cosa c'è all'interno e devo andare un po' a sentimento oppure togliere tutto eccetera qui essendo trasparente io vedo tutto quello che c'è all'interno quindi apro e prendo al volo quello che mi serve senza andare a cercare due ore andiamo avanti sempre con la mia borsa qua allora ecco questa è una cosa molto importante ragazzi questa è una cosa molto importante come vedete mi sono sono diventato più serio perché questa è la cosa forse tra le più importanti di tutti cioè i tappi per le orecchie allora sembra una cavolata ma i tappi per le orecchie ragazzi sono importanti da avere all'interno della propria borsa perché dopo un concerto magari c'è il DJ dopo un concerto magari dovete smontare c'è casino quindi proteggete le vostre orecchie mi raccomando proteggete le vostre orecchie con dei tappi ad esempio questi sono dei tappi abbastanza economici ce ne sono di vari tipi ve li lascio qui sotto in descrizione ho fatto anche un video che vi lascio qui sotto in descrizione in cui parlo della protezione delle proprie orecchie ve lo lascio perché almeno potete vedere tutto questo ad esempio lo vado a mettere nella taschina davanti che non ho ancora utilizzato guardate quante tasche che ha questa borsa qui della Minol veramente molto interessante queste le metto qua così finito il concerto sapete che le avrete nella taschina davanti tac prendete i vostri tappi e siete a posto qui ovviamente potete c'è spazio anche per mettere una targhetta ad esempio se rischiate di perdere se perdete la vostra borsa mettete una targhetta nome, cognome, indirizzo numero di telefono eccetera così se trovate qualcuno di giudizioso vi chiamerà e vi dirà guardate che avete perso la vostra borsa anche perché poi dipende chi la trova se la trova al panettiere cosa se ne fa di una borsa da batteria c'è una buona possibilità che la troviate se la perderete come sto parlando in italiano mi sposto di nuovo di là oggi ho voglia di spostarmi un po' da una parte e dall'altra quindi siamo sempre qui con la nostra borsa eccola qua allora adesso vado a prendere delle altre cose che sono per prima cosa questi raga allora Moon Gel ve ne ho già parlato di questi Moon Gel qua che sono in pratica delle sordine da appiccicare alla nostra pelle del rullante del Tom di quello che vogliamo sono 5 se non sbaglio sbaglio infatti perché sono 6 sono queste sordine blu che appiccicano tantissimo però raga allora queste sono le Moon Gel diciamo le gelatine quelle un po' più vecchie nel senso che sono quelle più datate forse quelle che ci sono da più tempo ma devo dire che sono queste qua della R Tom e secondo me sono quelle che alla fine funzionano sempre meglio le attaccate funzionano le finite le staccate le riponete in questo bellissimo contenitore qui in questa bella custodia andate a mettervele in un posto in cui magari le vedete quindi ad esempio qui insieme al clancho del charleston così almeno vedete dove sono e quando cercate le riuscite a trovare direttamente secondo me sto facendo un po' di casino col microfono perché tutte le volte che faccio così il microfono prende cose ma fa niente abbiate pazienza andiamo avanti perché non è finita qua perché tra tutte le cose che ho preso ah ecco questo raga questo non sto ad aprirle anzi si sto ad aprirle così ve le faccio vedere queste non ci pensa mai nessuno ma sono importanti ragazzi sono delle molle per il pedale eccole qua queste molle qua per il pedale sono importanti perché mettete caso che vi si rompa il pedale voi state usando magari il pedale singolo se usate il pedale doppio vabbè al massimo un pedale su due funziona non utilizzerete il doppio ma vabbè se utilizzate il pedale singolo però è importante avere queste molle perché se vi si rompe la molla si spezza la molla si fa casino voi non potete più suonare il pedale quindi è importante che queste molle voi le abbiate potete prenderne una potete prendere quante volete io in questo caso ne ho presi due perché ad esempio se qualcuno usa il doppio pedale almeno al ricambio per tutte e due queste molle qua andrò a metterle insieme al mio survival kit di casa Zildian che se non sbaglio avevo messo proprio qui davanti per essere super comodo eccolo qua il mio survival kit di Zildian e io qui vado a mettergli anche le mie molle andiamo avanti perché non è finita qua c'è ancora ah ecco 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 questa ragazzi importantissima drum key di Evans ve l'ho già fatta vedere più volte ho fatto anche un video proprio in cui vi faccio vedere questa chiavetta e altre accordatori per batteria ve lo lascio qui sotto in descrizione allora questa è una chiavetta molto importante una chiavetta dinamometrica quindi alcuni potrebbero dirmi si vabbè ma la dinamometrica non è così precisa come le altre è vero assolutamente ma sicuramente è molto più comoda questa è una chiavetta in cui andate a dirgli una tensione che volete tramite questa ghiera qua nel momento in cui andate a accordare la batteria quando arriva a quella tensione gli succede questo la chiavetta scatta e quindi significa che la tensione che volevate è stata raggiunta questa è importante appunto anche se è un po' meno affidabile rispetto ad alcune ad alcuni accordatori che magari sentono le note è un po' meno affidabile ma è più comoda perché voi magari sapete che il vostro tom dovete accordarlo con un numero di un giro più uno perché qui ha i numeri così almeno ve li potete segnare voi andate sul tom fate tac 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 magari non è accurata appunto come un'altra ma in un secondo riuscite a accordarla magari anche a metà live volete controllare se è tutto accordato più o meno giusto e ci mettete più o meno 5-6 secondi a vedere se tutte le viti del vostro tamburo sono accordate questa qua la metto qui abbastanza a portata di mano quindi qui dove avevo anche i tappi vedete quanta roba ci sta cioè è ancora vuota in realtà questa questa borsa ovviamente io gli ho messo solo un tot di bacchette non tantissimissime ma volendo si può riempire tanto quanto si vuole proviamo ad andarla a riempire con questo questo qua che è un pad da gamba non posso mettermelo sulla gamba qua quindi torno di là un attimo anzi torno di là finisco il video di là che devo ancora farvi vedere le due chicche che ci sono in più quindi andiamo di là vi dicevo questo qua è un pad della Dixon che è veramente molto interessante perché è un pad da gamba e secondo me perilo non fate a casa questa cosa ah potete farla anche a casa non era così disastrosa come si pensava questo è un pad della Dixon perfetto soprattutto per allenarsi o per scaldarsi magari prima di un concerto voi andate a mettervelo sulla gamba in questo modo magari di dritto non sarebbe male andate a metterlo qua non è un pad da allenamento quotidiano ma è un pad da ad esempio preconcerto voi ve lo mettete qui è super comodo anche abbastanza stabile prendete due bacchette chissà da dove dalla vostra borsa per esempio prendiamo queste qua e poi prima di un live magari vi mettete 10 minuti e andate a scaldarvi tranquillamente 10 minuti prima del live andate a togliere il velcro ve lo togliete e lo riponete volendo dove? nella vostra borsa delle bacchette mi viene sembra la borsa dei piatti ma in realtà è la borsa delle bacchette proviamo a vedere se ci sta perché questa è stata un po' una prova per vedere se ci stava o se non ci stava proviamo a metterlo qui in questa in questa tasca qui enorme vediamo un po' se ci sta eh raga ci sta e via abbiamo messo anche il pad nella nella nostra borsa e quindi come potete vedere ragazzi io ho fatto diciamo la mia borsa perfetta per qualsiasi evenienza ovviamente chiunque di voi può andare a mettere nella propria borsa qualsiasi cosa gli serva quindi fatevi sapere qui sotto in descrizione cosa secondo voi non può mancare un batterista all'interno della sua borsa io ho voluto fare ho voluto mettere ancora due chicche che secondo me possono essere molto importanti e possono essere utili soprattutto la prima è quella di un'altra borsa bacchette sia per darvi un'idea nel caso in cui questa fosse troppo grande ma voleste una borsa più questo non dovete farlo veramente ragazzi non fatelo quello che ho appena fatto vi dici cosa stavo dicendo sia nel caso in cui uno volesse una borsa bacchette non si chiama portabacchette più piccolo quindi in cui ci stanno una decina di bacchette direi questo è molto comodo perché ha queste due questi due elastichini qua che potete andare ad attaccare al vostro timpano ad esempio vostro timpano gli mettete le bacchette dentro e come potete vedere ecco qua che voi avete la borsa con le bacchette perfettamente attaccata al timpano quindi se vi cadono ce l'avete subito lì eccetera eccetera oppure voi questa potreste utilizzarla così ma andare diciamo volendo questa è una cosa un pochettino più strana ma andare volendo ad inserire anche questa all'interno dell'altra vostra borsa per le bacchette quindi voi avete questa qui andate inserire non so se ci sta questa è una prova che voglio fare andate a inserirgli dentro questa chiudete tutto questo è un po' extreme però mi piace come idea in realtà perché voi avete la vostra borsa grossa pesante eccetera con tutto dentro che praticamente è uno zainetto ma e forse funziona anche come zainetto tra l'altro guardate volendo la potete mettere anche come zainetto perché comunque adesso comincia a diventare un pochettino pesantina voi avete la vostra borsa che utilizzate come zainetto come tutto ma quando andate a fare il live voi non andrete a utilizzare questa per le bacchette ma andrete ad utilizzare e ad attaccare al vostro timpano quella più piccola così è più maneggevole è più semplice è più comoda è più leggera e tutto poi per portarla via la rimettete all'interno dell'altra borsa chiudete tutto come ho fatto prima e siamo a posto e questa è la mia borsa il mio portabacchette zainetto portabacchette perfetto per qualsiasi evenienza c'è una cosa però che devo dirvi che vi volevo già dire ma poi non vi ho detto perché ho detto ve la lascio alla fine cioè questa cosa che nessuno pensa ma è veramente molto importante io ve la voglio far vedere per i live ragazzi questo mi ha salvato anche già la vita questa borsa qua cioè più che questa borsa qua non avevo questa borsa qua ma ho deciso su strumentimusicali.net di comprare la borsa piatti più economica che c'era ho detto borsa piatti vai a filtramelo per quelle più economiche ho comprato quella più economica di tutte da 22 pollici perché questa borsa qua che per i piatti sarebbe un pochettino troppo fine non li terrebbe così tanto è perfetta per metterci le pelli di ricambio ragazzi le pelli di ricambio sono la cosa più importante che possiate portarvi dietro perché con qualsiasi cosa riuscite a suonare se non avete bacchette di ricambio riuscite a suonare se magari una vite si smolla e non ce l'avete quella da cambiare potete suonare lo stesso eccetera eccetera ma se vi si rompe la pelle del rullante o la pelle della cassa è un problema se vi si rompe la pelle del rullante magari avete il timpano A14 riuscite in qualche modo a cambiare ad usare lo stesso rullante e sacrificare il timpano ma se vi si rompe la cassa è un problema enorme e se non avete una pelle di ricambio è un problema veramente gigante quindi prendete questa questa borsa qua andate a me prendiamo delle pelli prendetevi delle pelli adesso io quella da 22 pollici qua al volo non ce l'ho ma prendetevi delle pelli anche usate quelle che magari avete tolto l'ultima volta dalla vostra batteria le prendete e molto semplicemente fate così e voi vi portate questa borsa dei piatti qua che non è dei piatti quindi potete farci quello che volete perché tanto non partiscono le pelli ma intanto la potete buttare la potete potete fare così metterla dove volete ma intanto avete le pelli di ricambio se siete in Groenlandia a suonare vi si rompe la pelle della cassa ce l'avrete qua dentro io l'ho presa da 22 pollici perché la mia cassa è da 22 pollici quindi avevo bisogno di mettergli dentro anche una pelle da 22 pollici ma ovviamente se voi avete la cassa da 20 o da 18 potete prenderla anche un po' più piccola rispetto a così quindi spero di avervi dato un po' di input un po' di informazioni importanti voglio ringraziare come sempre tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato tutto quanto perché è una cosa che non avevo mai fatto questa della borsa perfetta diciamo per il batterista ma è fondamentale è fondamentale soprattutto se cominciate a suonare un pochettino in giro vedrete che ogni tanto vi troverete a dire cavoli cosa come faccio adesso ho questo problema non riesco a uscirne perché mi mancherebbe quel pezzettino ma non ce l'ho e quindi invece se aveste fatto una borsa del genere e io con il mio gruppo con cui sto suonando adesso l'ho fatta proprio per questo avreste risolto il vostro problema ultima cosa che non vi ho detto perché non li ho comprati perché ce li ho già qui all'interno ovviamente mettete sempre un paio di near se suonate con gli near oltre ai tappi che vi ho detto prima un paio di near cioè un paio di cuffie mettetele mi raccomando perché se ce l'avete magari sia le cuffie normali sia un paio spare cioè un paio secondario che se si rompono le prime almeno avete sempre le seconde cercate di fare sempre questa cosa di dire se per caso si rompe qualcosa come faccio devo avere un qualcos'altro non è che dovete portare non dovete portarvi tutta una batteria in più perché se si rompe qualche pezzo avete l'altra batteria però almeno le piccole cose che ci stanno all'interno di una borsa di uno zainetto come questo secondo me è abbastanza importante averle quindi grazie mille ancora strumentimusicali.net per avermi permesso di fare questo video io vi saluto vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va così almeno mi supportate e mi permettete di andare sempre avanti con questi video e noi ci vediamo ai prossimi di video al prossimo di video ciao ciao